A Marina di Gioio Seionica con il sindaco Domenico Vestito, perché la vicenda della Carime ha avuto un epilogo purtroppo negativo. Prevalgono in questo caso le lotte economicistiche, ma a quanto pare tutta l'esperienza non è stata vana. Beh, assolutamente. Abbiamo avviato veramente ogni tipo di iniziativa. Ci siamo rivolti a tutti i livelli istituzionali possibili. Abbiamo messo in campo ogni sforzo che è consentito da un'amministrazione comunale. Abbiamo però trovato di fronte a noi un muro invalicabile, un'ostilità e soprattutto un silenzio. La cosa più imbarazzante di tutta questa storia è stato il silenzio assunto da Banca Carime. Solo alla fine il direttore generale ha mandato una risposta che è più formale che non di contenuto. Ma per il resto nulla di che. Ci è sembrato francamente un atteggiamento sgradevole, sgradevole da parte della banca, ma sgradevole anche da parte di un mondo di parlamentari, associazionismo, che si sono assolutamente disinteressati a questa cosa. Noi oggi allora lanciamo una provocazione a Banca Carime. È una richiesta precisa. Tu te ne vai, decidi di abbandonare una comunità di 21.000 abitanti, che è quella della Valle del Torbido. Noi abbiamo contestato e continuiamo a contestare questa scelta. Ricompensa la comunità di Marina di Gioiosa. C'è un bell'immobile che è di proprietà della banca dove aveva sede la filiale di Marina. Dalla tu banca al comune di Marina di Gioiosa Ionica, incomodato, in concessione, poi la forma giuridica si troverà, non è questo il problema. La dai gratuitamente e noi ci impegniamo da subito a farci la caserma dei carabinieri provvisoria in attesa di collocazione in un bene confiscato che è stato già individuato. E quindi daremo dignità a un presidio di legalità e di sicurezza imprescindibile per il territorio. Successivamente lo faremo diventare quello stabile, un grande centro di aggregazione culturale. La biblioteca comunale, un momento di incontro, dei caffè letterari, tutto quello che riesce a creare identità. Questa è la sfida che lanciamo a Banca Carime per ricompensare il territorio.